Buongiorno ragazzi, oggi parliamo dell'esercito e dell'accampamento dei Romani, pagina 76-77 dell'Italia. Come abbiamo visto, l'esercito romano era composto dagli abitanti di Roma, che in caso di guerra avevano l'obbligo di lasciare le proprie attività e andare a combattere pagandosi le armi e andando incontro a grosse spese e spesso indebitandosi. Dopo le guerre puniche, Roma scoprì l'importanza di avere un esercito di soldati professionisti. Così formò un esercito fisso di soldati pagati per combattere. Rimanevano in servizio 16 anni, a cui venivano fornite le armi dallo Stato e alla fine del servizio militare ricevevano delle terre che potevano coltivare, così che potessero continuare a mantenersi. Le legioni erano i gruppi che formavano l'esercito. Ogni legione aveva un suo stemma ed era comandata dal suo comandante. Le legioni erano formate da corti, gruppi più piccoli di soldati. Successivamente si formarono i manipoli, gruppi di soldati che combattevano separatamente. Se un manipolo veniva sconfitto, dava la possibilità agli altri di ritirarsi. Dato che le guerre venivano combattute lontano da casa, veniva costruito un castrum, ovvero un accampamento, che era come una piccola città. Quando invece l'esercito doveva sostare in un posto a lungo, costruivano edifici e mure in pietra. Bisogna sempre ricordare che al tempo tutti si spostavano a piedi, tutt'al più a cavallo, e che muovere un esercito non era molto veloce. Gli accampamenti erano quadrati, attraversati da due strade perpendicolari chiamate Cardo ed Ecumano, che dividevano l'accampamento in quattro parti. Al centro dell'accampamento c'erano la piazza principale e l'alloggio del comandante. Capitava che alla fine di una guerra alcuni soldati si fermassero a vivere nell'accampamento che diventava una città vera e propria.